Una splendida giornata di festa che si tramuta in un'occasione di appuntamento religioso per un'intera comunità che si è voluta raccogliere qui, dinanzi alla monumentale storica chiesa di Piedigrotta a Pizzo, per celebrare un momento religioso. È stata un'improvvisata, però vista la giornata ne abbiamo approfittato. È una cosa molto bella per i ragazzi e speriamo che ce ne siano altri. È stato impegnativo arrivare fino a qui con tutte queste scale? Sì, è stato impegnativo perché siamo dovuti venire da sopra dove ci sono i pescatori. Siamo venuti qua, oggi c'è un bel sole fa caldo con i ragazzi disabili. Noi dobbiamo aiutare, dobbiamo andare sempre e sempre avanti nella nostra associazione, nella nostra famiglia. È stata una bella esperienza. Sì, sì, una bella esperienza per noi e per tutti i ragazzi. Ti è piaciuto venire qui? Mi piace venire qua. Con tutte queste scale è stato impegnativo? È stato bello. Però nel Val Sala. Sì. Che ricordo ti porti adesso? Cosa dirai? Quando torni a casa? Abbiamo fatto una preghiera. Abbiamo visto le immagini di Gesù, il Sacro Cuore. Tutte le immagini. Che ricordo si porta? Non ricordo se è bello del mondo. Grazie. Grazie.